E' fissato per martedì 31 maggio il Dionisio Dei in casa Taranto, il nuovo direttore sportivo verrà presentato ufficialmente alla stampa e non si escludono per l'occasione novità importanti sul fronte allenatore. In queste ore sarebbero stati diversi i contatti tra Lex Brindisi e Giuseppe La Terza, quest'ultimo sempre intenzionato a rimanere a maggior ragione dopo le parole pronunciate dal presidente Giove che di fatti lo ha nuovamente confermato. Il numero 1 rosso-blu inoltre si è anche focalizzato sulle obiettivi della prossima stagione, sarà un Taranto con un'età media più bassa il cui obiettivo saranno i playoff. Una volta che verrà ridefinita l'area tecnica, ovvero che la terza sarà riconfermata ufficialmente, si potrà pensare ai prossimi step relativi alla costruzione dell'organico. Nel dettaglio Dionisio avrà un dialogo con tutti i calciatori attualmente sotto contratto per capire da chi eventualmente ripartire, ma non si escludono neppure tentativi con quelli in scadenza su tutti i versienti e Zullo che rimarrebbero volentieri in rosso-blu. Discorso diverso invece per Di Gennaro che potrebbe far rientro in pianta stabile al nord in una compagine DC dei gironi centro-settentrionali.